bonus cultura denunciato un commerciante sanzioni per 360 beneficiari gela coppia arrestata dalla polizia per diversi furti contestati 12 episodi incidente stradale in via due fontane intervento dei carabinieri un giovane nei guai commemorazione dei defunti le variazioni alla viabilità soprattutto nella zona angeli calcio serie di san cataldese sesta sconfitta in sette gare verde amaranto ultimi in classifica la guardia di finanza di caltanissetta grazie ad una segnalazione elaborata dal nucleo speciale spesa pubblica e repressioni e frodi comunitarie ha da poco concluso un'articolata attività ispettiva nei confronti del titolare di un'attività commerciale di san cataldo il quale in violazione della normativa che disciplina il bonus cultura avrebbe comunicato falsamente al ministero la rivendita di libri biglietti di spettacoli teatrali e ingresso al cinema cedendo invece beni da lui commercializzati come cellulari videogiochi e computer non contemplati nelle categorie ammessa al beneficio si sarebbe verificato che commercianti meno virtuosi si siano accreditati al sistema della 18 app la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione del bonus per rivendere prodotti diversi da quelli indicati dalla norma traendone un illecito beneficio a danno della spesa pubblica gli approfondimenti svolti hanno portato quindi alla segnalazione delle responsabili alla locale autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello stato sono state altresì elevate sanzioni amministrative per il lecito utilizzo del bonus cultura nei confronti di 360 fruitori tutti i residenti nella provincia nissena e in quelle limitrofe per un ammontare complessivo di oltre 160 mila euro al termine delle attività svolte come riporta la notte della guardia di finanza il ministero della cultura intervenuto con l'immediata sospensione dell'accreditamento del profilo virtuale dell'esercente dal sistema 18 app e avviato le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite arrestata una coppia a gela dalla polizia di stato si tratta di un 44 anni di una 31 anni indagati per 12 furti in altrettanti esercizi commerciali del gelese gli inquirenti contestano i reati di furto aggravato in concorso compiuti con lo stesso metodo utilizzando in modo in debito carte di credito rubate e non solo la storia non avrebbe nulla da invidiare ad una sceneggiatura serie televisiva i furti sarebbero stati messi a segno tra giugno e agosto l'uomo e la donna si sarebbero introdotti all'interno degli esercizi commerciali dove poi avrebbero puntato prima i registri di cassa poi il computer e altro materiale l'arresto effettuato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di gela da esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale gelese su richiesta della procura della repubblica locale il 44 anni dopo l'arresto è stato condotto al carcere di gela e la donna agli arresti domiciliari attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria i reati contestati sono quindi concorso in furto aggravato in debito utilizzo di carte di credito ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature un ragazzo di 17 anni di caltanissetta è finito nei guai a causa di un incidente l'episodio si è verificato la notte del 16 ottobre in via due fontane quando il giovane a bordo di un quadriciclo intestato alla madre sarebbe finito contro una fiat punto guidata dal ragazzo nisseno di 21 anni subito sono intervenuti sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne al pronto soccorso dell'ospedale santelia sottoposto ad accertamenti tossicologici sarebbe risultato positivo a sostanze stupefacenti alcoliche riportando lesioni guaribili in dieci giorni i carabinieri hanno quindi ritirato il patentino del giovane e sottoposto a sequestro il mezzo che sarebbe risultato privo di copertura assicurativa è l'associazione ligabue di caltanissetta che da 30 anni è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie proprio l'associazione chiede un confronto agli attuali vertici dell'azienda sanitaria locale e tramite una nota vuole sapere se ci sia la disponibilità al confronto da parte dell'ente sulle prossime iniziative sui locali idonea svolgere le attività associative sulle strategie per fronteggiare il disagio sul budget di salute e per sapere se sia stato avviato l'iter per la realizzazione dei progetti terapeutici individualizzati di prese in carico comunitaria così come disposto dall'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019 numero 17 contattato il presidente dell'associazione ci ha comunicato che a giorni ci sarà l'incontro richiesto con i rappresentanti dell'asp sulla vicenda un ragazzo di 23 anni di sommatino è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito con calci e pugni lo zio il giovane avrebbe aggredito il parente a più riprese e non si sarebbe fermato neanche con l'arrivo dei militari giunti sul posto per tentare di placare la situazione anzi avrebbe tentato di assalire lo zio con una spranga così è scattato l'arresto a carico del giovane che ora dovrà rispondere dal reato di lesioni personali il fatto risale a lunedì sera quando lo zio nome di 53 anni ha chiamato i carabinieri di sommatino per chiedere aiuto una volta giunti sul posto i militari avrebbero cercato di capire il motivo della lite quando improvvisamente il giovane si sarebbe scagliato con calci e pugni contro lo zio il 23enne avrebbe continuato a infierire contro quest'ultimo nonostante fosse finito a terra a quel punto i carabinieri lo hanno bloccato e tratto in arresto lo zio intanto è stato curato e dimesso dal pronto soccorso di canicattì con una prognosi di sei giorni durante il processo per direttissime infine il giudice nicoletta frasca ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il giovane che è stato sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria come richiesto dal pm dario buonanno nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un'incidenza di nuovi casi pari a 9.186 più 3,54 per cento con un valore accumulativo di 191 100 mila abitanti il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di messina a seguire siracusa e trapani le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e 69 anni tra i 70 e 79 anni e tra i 45 e 59 anni anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati sono 32 nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in italia nelle ultime 24 ore mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 40 negli ultimi sette giorni tal 13 al 19 ottobre sono entrate in terapia intensiva covid 229 persone in crescita dell'8,5 per cento rispetto alla settimana precedente in vista della commemorazione dei defunti si preannunciano delle modifiche alla regolamentazione veicolare nella zona angeli dove è presente il cimitero e si prevede una maggiore affluenza di cittadini che vi si recano per portare un fiore ai propri cari che non ci sono più dal 30 ottobre al 2 novembre 2022 dalle ore 7 alle ore 18 viene istituito infatti il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in corso vittorio emanuele da corso umberto a via red italia largo badia via paolo emiliani giudici fino a via pugliese giannone via tuminelli via castello di pietra rossa via medaglie d'oro via angeli sospesa inoltre la circolazione veicolare nella zona angeli tranne che per i residenti muniti di apposito permesso eccezione valida anche per gli autobus urbani mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso e veicoli al servizio di persone con disabilità muniti sempre dell'apposito contrassegno circolazione sospesa in particolare nella zona ricadente all'interno del perimetro delimitato da via giudici via tuminelli via roma via pietra perzia via angeli via san domenico via vasellai via medaglie d'oro senso unico di marcia in via lamedeo da via roma via regina margherita i veicoli provenienti da via stazione da via cinnirella dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per via lamedeo verso via regina margherita per gli autobus navetta si prevede una corsia riservata in corso vittorio emanuele tra via medaglie d'oro e piazza garibaldi lì dove viene istituito il divieto di sosta con rimozione per permettere agli stessi di percorrere il tratto in senso inverso rispetto all'ordinaria circolazione anche nei giorni precedenti e cioè 28 e 29 ottobre potrebbe essere sospesa in base alle esigenze della circolazione veicolare tranne per le autovetture al servizio delle persone con disabilità in via angeli dal civico 83 al piazzale cimitero si potrà circolare nel tratto di via medaglie d'oro compreso tra corso vittorio emanuele badia e l'entrata del parcheggio multipiano per permettere ai cittadini di posteggiare le auto al suo interno saranno individuate delle zone per la sosta delle autovetture al servizio di persone con disabilità munite di regolare contrassegno e il tragitto consentito ai taxi itinerario previsto anche per i residenti per raggiungere le proprie abitazioni e comunque non potranno sostare dove insistono i divieti vietato infine nelle zone interdette la circolazione veicolare della zona angeli il commercio su aree pubbliche effettuato in forma generante con qualsiasi mezzo disastrosa prova della san cataldese sul campo del real la versa nel turno infrasettimanale del gironei di serie d i verdi amaranto sono usciti sconfitti dal rettangolo di gioco al termine dei 90 minuti con un parentorio 4 a 0 la sesta battuto dal resto in sette partite dall'inizio del campionato la san cataldese è ultima con appena tre punti all'attivo insieme alla mariglianese battuta in casa dal castrovillari le reti del real la versa sono state messe a segno da gassama autore di una doppietta nel primo tempo petricciolo a inizio di ripresa e cavallo nel finale domenica la san cataldese tornerà a giocare tra le muramiche contro il santa maria cilento fischio d'inizio alle ore 15 i verdi amaranto hanno assoluta necessità di tornare alla vittoria per tirarsi fuori dalla zona più calda della classifica il santa maria cilento arriverà a san cataldo dopo due vittorie importanti contro a cireale e la mezzia attuale vice capolista avversario tutt'altro che facile dunque per la squadra allenata da pietro infantino i risultati delle partite della settima giornata trapani la mezzia 2 a 2 licata sant'agata 3 a 2 santa maria cireale 1 a 0 real la versa san cataldese 4 a 0 san luca cittanova 3 a 1 mariglianese castrovillari 0 a 3 vibonese paternò 3 a 4 catania locri 2 a 0 ragusa canicati 0 a 0 la classifica catania 21 punti la mezzia 16 real la versa 14 vibonese e ragusa 13 santa maria e castrovillari 10 sant'agata e locri 9 a cireale trapani licata e canicati 8 paternò 7 san luca 6 cittanova 4 mariglianese e san cataldese 3 amici di trebi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di giovedì che vedrà sia ancora alta pressione sul mediterraneo e sull'italia ma cominciano ad avvicinarsi al nostro paese questi sistemi nuvolosi atlantici associati a un profondo centro di bassa pressione presente appunto sul nord atlantico controlliamo la nuvolosità attesa sull'italia con ampie zone di sereno ma qualche nuvola comincia ad affacciarsi sulle regioni settentrionali a partire dal nord ovest dove a fine giornata arriveranno anche le prime gocce d'acqua in effetti guardiamo la previsione delle precipitazioni sull'italia per gran parte del giorno rimangono ancora lontane dal nostro paese però piano piano avanzano verso est quindi come vi dicevo a fine giornata prime gocce di pioggia sulle alpi occidentali quindi in definitiva ci attendono giovedì ancora l'insegna del sole in tutta italia alla fine del giorno tempo in peggioramento all'estremo nord ovest e poi vi anticipo venerdì arriveranno piogge più diffuse al nord ne abbiamo anche bisogno come temperature e valori molto miti massime localmente ancora oltre i 25 gradi per sapere comunque cosa accadrà appunto anche nelle giornate successive consultate l'app gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Croce Verde, Viale della Regione Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone-Colaianni Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone, Chugge di folderlavi di Tenerini Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone-Colaianni Servizio notturno, San Pio X, Dia Muоzo del Soleone, freezer rompo e timeline, lavori old boom pio dins..... Grazie a tutti.